Allora Arezzo è davvero in alto mare come avete scritto? Sì è in alto mare, abbiamo visto che il sottopasso del Baldaccio ha la prima prova vera con l'intensità delle piogge che è venuta nei giorni scorsi si è allagato quindi è un problema, non è che lo diciamo per essere contenti però avevamo segnalato queste preoccupazioni già il 28 di marzo dello scorso anno quando insieme al consigliere Canesca abbiamo richiesto una commissione lavori pubblici speciali proprio per parlare di queste problematiche e i nostri dubbi si sono purtroppo verificati. L'assessore Sacchetti si è preso alla responsabilità politica di quanto è accaduto però ha detto chiederò conto, arriverò in fondo per capire se c'è un problema e si può risolvere. Come leggete queste parole? Allora innanzitutto finalmente c'è qualcuno che si assume la responsabilità però è anche vero che bisogna cominciare a dire che questa amministrazione non è in grado di gestire la città anche perché questo intervento aveva un costo iniziale di circa 2 milioni di euro anche in questo caso siamo arrivati a 6 milioni di euro per avere un risultato che alla prima pioggia vera si è allagato il sottopasso quindi bene che si sia preso le responsabilità però dietro le responsabilità c'è anche un'assenza da parte dell'assessore che ricordiamo è l'assessore alle opere strategiche che sono tutte e tre ferme che sono via Filzi, la rotonda di via Fiorentina e la doppia canna perché la sua presenza in città è molto ridotta 2-3 giorni alla settimana e come sappiamo il sindaco negli Stati Uniti un sindaco che negli ultimi 3-4 anni ha attraversato più volte l'oceano che la sua città I cittadini segnalano continuamente il problema delle buche nelle strade della pericolosità di queste buche ma vi rendete conto se un mezzo o due ruote entra in una buca di via Calamandrea cosa può succedere, sarebbero continui ricorsi, continui denunce rispetto all'amministrazione comunale quindi il tema è lavori pubblici fermi, opere strategiche ferme, manutenzione zero e su questo noi vorremmo porre l'attenzione chiedendo anche un Consiglio Comunale aperto sul tema della manutenzione perché non si può andare avanti con una città completamente abbandonata Grazie